Io penso che ce lo siamo meritati per questo risultato, ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto un primo tempo, un grande primo tempo, il secondo tempo è stato un secondo tempo di lotta, anche perché non è prevedibile durare 100 minuti come è stata questa partita a quei ritmi, però devo fare complimenti veramente perché sono stati veramente bravi, non l'ha meno, primo tiro un porta subito go, siamo stati leggeri lì, però devo fare complimenti a tutti, anche chi è entrato, chi era a panchina, l'atmosfera era quella giusta, vorrei solo che si continuasse così, a lottare, a fare le nostre partite, a volte vinceremo, a volte perderemo, non è che perché si era degli imbefi di prima, ora siamo fenomeno, ci vuole un giusto equilibrio e speriamo che tutti i ragazzi che stiano sempre bene, che s'allenino bene, che abbiano sempre l'entusiasmo e che abbiano odio a fare questa partita. Tutto bene. Io penso che noi dobbiamo fare il nostro campionato, ora andiamo troppo in là, perché se no ci godiamo mai nemmeno le partite che facciamo alla grande. Ora dobbiamo solo stare tranquilli, prepararla bene, sperare di poter lavorare al completo e poi di fare una grande partita sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Poi tra il pubblico e la squadra penso che ormai siamo, come si può dire, c'è una simbiosi, c'è una cosa, vogliamo anche noi le stesse cose che vogliano loro. Loro le manifestano in un modo, noi in un altro, però finisce lì, insomma, non è un problema. L'importante è che oggi siano contenti e cerchiamo di renderli felici anche nel proseguire il campionato. Grazie. Grazie.